Una forte denuncia della condizione degli esodati mi è stata indirizzata da Marco, della provincia di Torino, che mi chiede di citare la gravità di tale questione, in quanto comune a tanti, nel messaggio di questa sera. E lo faccio. Mi hanno scritto in questo periodo persone che alla denuncia delle loro difficoltà uniscono l'espressione di un naturale senso della nazione e delle istituzioni. Lo si coglie chiaramente, ad esempio, nel travaglio di un padre di famiglia, titolare di un modesto stipendio pubblico, che mi scrive «Questo mese devo decidere se pagare alcune tasse o comprare il minimo per la sopravvivenza dei miei due figli». E mi dice di vergognarsi per questo angoscioso dilemma, pensando al patto sottoscritto con le istituzioni, al giuramento, sono sue parole, di pagare le tasse sempre e comunque.